È un'altra giornata difficile per quel che riguarda il traffico cittadino. Come è noto si stanno ultimando dei lavori sulla 17 per la posa del nuovo asfalto e sulla 80 per terminare gli attraversamenti realzati, pedonali, legati alla nuova bretella che si è realizzata. Quindi sull'80, come vediamo alle nostre spalle, si stanno effettuando i lavori, sia la posa dell'asfalto che la sistemazione, l'ultimazione di questi attraversamenti pedonali che pure qualche polemica l'hanno scatenata in città animando il dibattito cittadino. Il traffico poi, una volta superato il tappo maggiore che si crea in corrispondenza dell'ex motel Amiternum, scorre abbastanza velocemente, ma i disagi sono diversi. Era prevedibile, dice il Comune, scusandosi per i disagi. L'opera dovrebbe peraltro essere terminata a breve, però l'ironia, gli scontri anche politici in città non si placano. Nuovo asfalto in alcuni tratti di strada, sfalcio dell'erba, completamento degli attraversamenti rialzati che pure hanno creato qualche polemica e così all'Aquila sono giorni di traffico intenso che spesso paralizza le tue statali 80 e 17. Il problema più grave a livello di traffico è quello che si crea in corrispondenza del mercato di piazza d'armi con i vigili urbani che spesso sono costretti a chiudere un tratto di strada. Il problema del traffico e delle viabilità sta creando qualche frizione anche in maggioranza, con continui botte e risposta tra il consigliere forzista Giorgio De Matteis e l'assessore Carla Mannetti. In particolare, sugli attraversamenti pedonali rialzati, si è scatenata l'ironia del web con meme e immagini che scherzano sull'altezza di queste opere. De Matteis, capogruppo di Forza Italia, ha tuonato scrivendo «Non ci resta che piangere», sostenendo che il problema è soprattutto per la zona dell'ospedale e per le ambulanze, ha detto, che dovranno avere ammortizzatori rinforzati, ironizza, costretti ad un percorso ad ostacoli. L'assessore dal canto suo ha spiegato che si tratta di attraversamenti da non confondere con i dossi e che gli attraversamenti su strade di scorrimento con velocità massima uguale a 50 km orari prevedono una pendenza delle rampe di raccordo al massimo del 15%, mentre quelli che si stanno facendo hanno pendenza inferiore al 7% e che si potrà giudicare l'opera quando sarà finita e realizzate le illuminazioni. Il manto di asfalto attenua il raccordo con la rampa, inoltre spiegano dal Comune. Fatto sta che le polemiche continuano e gli scontri in maggioranza sono sempre più frequenti e anche su altri argomenti, come Portaleone e Parcheggio, ad esempio. Nella Commissione qualche giorno fa si è rimandata la discussione e la votazione con il voto a favore del rinvio anche di Forza Italia.